Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata, miei cari figlioli. Ben ritrovati al nostro appuntamento con la Catechiesi del martedì sera. Questa sera andiamo al secondo capitolo del mio libro appena uscito, Si è fatto carne e potete chiedere se volete il libro alla segreteria di Radio Domina. Questa è la terza puntata. Le prime due puntate, se vi ricordate, le abbiamo dedicate alla genealogia di Gesù. Non è stato facile, perché la genealogia di Matteo, capitolo primo, versetti 1-21, e poi la genealogia di Luca al capitolo terzo imponevano una fatica relativamente alla traduzione in termini un po' più comprensibili di questo alto profilo teologico che la genealogia ha e possiede. Invece, dopo le prime due puntate dedicate alla genealogia, questa sera, seguendo lo schema riassuntivo dei Vangeli dell'infanzia, ci troviamo dinanzi alla figura di San Giuseppe. Preciso subito che noi ne abbiamo parlato la settimana scorsa nel contesto del sillabario di Natale, della novena di Natale, ma ho preso molto spunto dalle cose che ho scritte in questo mio libro qui, Si è fatto carne, e questa sera però possiamo senza dubbio approfondire in maniera più dettagliata dal mio libro, dal secondo capitolo che si intitola Il concepimento virginale di Gesù e l'annuncio a Giuseppe. Allora io seguirò il seguente criterio, che è quello che poi assumo nel mio libro Si è fatto carne. Anzitutto un'introduzione, poi dopo vedremo il titolo che io ho pensato di attribuire a San Giuseppe, spero che piaccia soprattutto ai cultori di lingua greca. Noi sappiamo che Santo Stefano è definito il protomartire. Allora io ho pensato che come c'è un primo martire c'è anche un primo collaboratore, siunergos in greco. Quindi siccome in greco collaboratore si dice siunergos, ho pensato di dare questo titolo, spero che i grecisti che sono in ascolto i cultori di lingua greca lo apprezzino, spero tanto. Ho pensato di dare fra i tanti titoli possibili che San Giuseppe merita, perché è una figura del tutto straordinaria, quello di primo collaboratore di Dio nel piano della redenzione. In greco primo collaboratore si dice protos unergos, mi piace. Mi piace molto questo taglio così raffinato, protos unergos Matteo, cioè il primo collaboratore di Dio. Poi vedremo soprattutto il tema del, per me decisivo, del sospetto, del dubbio di Giuseppe, come si fa credere nei confronti di Maria, per il quale dubbio avrebbe deciso di ripudiarla in segreto. Ma già questa è una contraddizione, perché se è giusto non può ripudiarla in segreto, deve accusarla pubblicamente come la legge prevede, quindi non sarebbe più stato giusto. Quindi più che di dubbio, di tesi del dubbio a riguardo della decisione di allontanarsi, Matteo sottolinea con ogni evidenza che Giuseppe, San Giuseppe, è uno che non si sente all'altezza. Del resto Mosè era così, lo vedremo, Isaia è così, i profeti sono così, tutti coloro che sono chiamati da Dio sperimentano il senso della propria inadeguatezza. Figurarsi San Giuseppe dinanzi a questo grande mistero di una donna, perché questo è il mistero, vi anticipo già che l'ultimo giorno della novena, il silabario natalizio, il 24 dicembre, prevede Maria. Ecco, vedremo, vedremo Maria. Cioè quando diciamo Maria diciamo tutto. E quindi vedremo adesso, questa sera, il tema della vera ragione per cui Giuseppe decide in corso di ripudiare in silenzio la sua sposa e ci chiederemo se Giuseppe e Maria sono stati veramente due sposi oppure fittizi. Quindi come vedete c'è molta carne al fuoco, allora andiamo subito al primo punto. Il primo punto, abbiamo detto, è introduttivo. Il primo punto è introduttivo, lo prendo sempre da questo mio libro, dalle pagine 45 in poi. Allora, senza dubbio Matteo intende, dopo aver fatto attenzione alla genealogia, concentrare l'attenzione su questa figura così decisiva e così bella e commovente che è San Giuseppe. San Giuseppe è colui attorno al quale da subito si concentra l'attenzione dell'evangelista. Giuseppe ha i tratti, diciamolo subito, questo dell'uomo giusto di cui parla la Bibbia. In particolare la parola ebrea per giustizia è tzedek, tzedek, appunto giustizia, da cui proviene il senso teologico del giusto che vive in pienezza l'alleanza con Dio. Cioè, chi è il giusto nell'Antico Testamento? È colui che vive in pienezza la legge di Dio. E questo già è un motivo per scardinare la tesi del dubbio, perché se Giuseppe è uno che vive in pienezza la legge di Dio, deve ripudiare pubblicamente Maria, come ora vedremo. Giuseppe è ritratto da Matteo. Matteo è l'evangelista di Giuseppe. Nessuno dedica tanta attenzione tra i quattro Vangeli a San Giuseppe come l'evangelista Matteo. E questo, d'altra parte, si capisce, vuole garantire l'appartenenza alla dinastia davidica. Abbiamo visto questo nelle catechesi sulla genealogia. Allora, Giuseppe appare, appunto, come colui, attenti bene, che nonostante l'imprevisto irrompere di Dio nella sua vita, lui aveva un suo programma, Giuseppe doveva sposarsi, aveva Maria, era un programma da realizzare. Eppure, di fronte a quello che Dio gli propone, inaudito, inaspettato, imprevisto, Giuseppe, impariamolo anche noi, non si tira indietro, non si tira indietro, non contesta, non cerca pretesti per opporsi, proprio come ha fatto Abramo, il padre della fede. Io dico, allora, già da subito, quanto deve tornare a colpire la nostra fede la risposta di San Giuseppe. Le nostre risposte a Dio, diciamoci la verità, non sono come quella di San Giuseppe. San Giuseppe ha una capacità di rispondere a Dio che è assolutamente straordinaria. Egli è veramente come un nuovo Abramo, al quale viene chiesto, rispetto al patriarca dell'Antico Testamento, non di andare semplicemente via dalla casa paterna. Vi ricordate, Dio dice ad Abramo, vattene dalla tua terra. Invece, Dio domanda a Giuseppe qualcosa di più, non di andare via dalla casa paterna, ma di andare via, cioè di abbandonare il proprio progetto di vita. E questo, per un uomo, forse più che per la donna, risulta veramente un impegno di non poco conto. Bisogna avere molta fede, come l'ha avuta San Giuseppe, l'uomo giusto, ma anche l'uomo di fede. La risposta di Giuseppe è una risposta che lascia senza fiato. Egli dovrà chinare il capo obbedendo in modo non diverso da Abramo. Al patriarca Abramo, se leggiamo la Genesi, Dio toglie il padre e la terra. Al nuovo patriarca, cioè Giuseppe, San Giuseppe, Dio sottrae, in qualche modo, la moglie. Immaginate voi, miei cari figlioli, Dio contende Maria con Giuseppe, gliela strappa via. Arriva lì e gli toglie subito quella moglie, di fronte alla quale, però, come abbiamo detto in diverse occasioni, Giuseppe si era già reso conto che si trattava di qualcosa di speciale. Ma Dio gli sottrae non solo la moglie, ma anche lo stesso disegno di vita. Per tutto ciò Fonbaltasar definisce San Giuseppe. Io l'ho chiamato Protosunergos, il primo collaboratore, spero vi piaccia, ma mi piace anche, come lo chiama Fonbaltasar, il contropolo di Abramo. Bellissimo. Cioè, se si vuole avere un antagonista, nel senso però non negativo, ma direi concorrenziale del termine, senza dubbio si tratta di Giuseppe con Abramo. La fede di Giuseppe è realmente un ottimo modo con cui aprire subito, dopo la genealogia, il racconto evangelico. E così si presenta dinanzi a noi proprio il giusto Giuseppe. Salto, naturalmente, per chi dovesse avere avuto già il libro a disposizione, salto diverse parti, perché il capitolo che ho dedicato a San Giuseppe, che spero vi piaccia o vi sia piaciuto, se l'avete già letto, è molto ampio, quindi non posso esaurire tutto in una sola puntata. Vi rimando al mio libro, io prenderò solo le cose che ritengo più importanti. Allora, la sua fede, la sua obbedienza, la sua giustizia interiore, quelle di Giuseppe, sono un ouverture con cui Matteo non esita a dar corso al racconto del Vangelo dell'infanzia. Abbiamo bisogno di questa figura. Oggi più che mai il cuore castissimo di San Giuseppe. A Fatima la Madonna è apparsa l'ultima apparizione, il 13 ottobre, con San Giuseppe. A Ghiaie di Bonate c'era sempre San Giuseppe. San Giuseppe ritorna di grande attualità. Abbiamo tutti bisogno nuovamente di lui, della sua custodia, della sua protezione. Ora, San Giuseppe raramente è solo nelle icone, nelle statue o nei quadri. Come sappiamo, San Giuseppe è sempre con Gesù e con Maria. Questo credo sia decisivo. Egli si è come perduto. È quello che dovremmo sperare tutti noi, soprattutto noi sacerdoti, soprattutto noi preti. Però ogni battezzato dovrebbe sperare di far la fine, tra virgolette, di San Giuseppe. Cioè, egli si è come perduto tra questi due grandi amori. E così vuole essere per sempre celebrato San Giuseppe. Cioè, San Giuseppe sta sempre tra questi due amori, queste due passioni, che sono Gesù e Maria. Lui si perde, non vuole nulla per sé. Vive unicamente in direzione di questi due grandi tesori, come dovrebbe fare ognuno di noi. Gesù e Maria. Gesù e Maria. Quasi sempre, in passato, raffigurato da anziano con la barba bianca e più recentemente tornato giovane, perché di fatto lo era quando è nato Gesù, San Giuseppe trasmette, non so se siete d'accordo, dove lo si vede, dove è rappresentato in molte chiese, in passato era dappertutto, trasmette un senso di pace. Nonostante quello che ha dovuto affrontare sia di non poco conto, San Giuseppe trasmette, non so se siete d'accordo in quello, un senso di pace, di serenità. Più volte io, come dire, ho guardato a San Giuseppe e ho trovato proprio in lui, solo guardandolo, il mio capezzale, per intenderci, la mia casa è una chiesa, però il capezzale sopra il letto c'è San Giuseppe. Quando lo guardo io sento questo senso di pace, di serenità, tra Bettelemme e Nazareth, come anche nell'esilio in Egitto, imbarazzato sicuramente dinanzi ai remaggi e invece del tutto a proprio agio, lui che era umile tra gli arnesi della bottega vicino casa, trascinato nel mistero più profondo della fede, più di Abramo, senza dubbio più di Abramo, è rimasto così Giuseppe. E così lo guardiamo, e così lo pensiamo. Un uomo schivo, eppure vivile, umile, eppure forte, semplice e gioviale, combattivo e deciso, eppure docile e paziente, quando si è trattato di proteggere Gesù, il suo piccolo divin bambino e Maria, la sua sposa che egli, Giuseppe, da subito, quando le è stata consegnata come promessa sposa, perché c'è quel periodo, come ora vedremo, della fidanzamento, lui da subito l'ha vista come una colomba tutta pura. Per essi, cioè per Gesù e Maria, San Giuseppe avrebbe dato la vita mille e mille volte, e forse non esagero, scrivo così nel mio libro, se pensiamo che egli abbia avuto in cuore, San Giuseppe nel suo cuore, abbia avuto quell'ardore che tutti i martiri insieme, tutti i martiri insieme di tutti i tempi, hanno testimoniato quando sono andati incontro al martirio per amore di Gesù e del Vangelo. Dicevamo che egli per molto tempo è stato rappresentato anziano e solo piuttosto di recente, in epoca moderna, è tornato finalmente giovane. Come mai? Perché San Giuseppe in passato è stato rappresentato anziano? Il motivo è legato a un dato della tradizione, soprattutto di ambito apocrifo, i Vangeli apocrifi, ma non solo, anche qualche padre della Chiesa, come Massimo il confessore del VII secolo, che per esempio nella celebre vita di Maria scrive Giuseppe, questo è un padre della Chiesa del VII secolo. Dice Giuseppe era avanti nell'età, oltre i 60 anni, nessuno poteva avere sospetti sul matrimonio, era vedovo e povero di beni materiali, esercitava il mestiere di Carpentiere. Avete sentito bene? Nessuno poteva avere sospetti sul matrimonio. Dunque si assesta una tradizione intorno al V-VI secolo, particolarmente poi nel VII secolo con Massimo il confessore, che proseguirà in tutto il Medioevo e fino all'età contemporanea, di un Giuseppe che deve essere anziano perché non si abbiano dubbi sul matrimonio. C'è persino chi sospetta, nei Vangeli apocrifi, chi sostiene, che San Giuseppe avesse addirittura avuto un matrimonio precedente. Io, perché lo sappiate, rigetto chiarissimamente questa tesi, anche San Massimo il confessore, questo padre della chiesa del VII secolo, dice per esempio nella vita di Maria, pose Santa Maria a capo delle sue figlie perché le istruisse e anche se erano più anziane di lei, tuttavia Maria andava loro innanzi nella grazia dello Spirito Santo. Quindi San Massimo il confessore, che naturalmente non se le inventa queste cose, erano tesi che circolavano nelle comunità credenti dell'Asia minore e poi anche in occidente, un po' meno in occidente all'inizio, ma soprattutto in Asia minore. Le tesi erano due, che San Giuseppe avesse sposato Maria, anzi tre, che San Giuseppe avesse sposato Maria quando aveva circa 60 anni, e questo per fugare ogni dubbio sul matrimonio. Che avesse avuto un matrimonio precedente, pertanto era vedovo, e che avesse avuto delle figlie a cui affida Maria. Bene, per quel che mi riguarda, miei cari figlioli, posso dirvi con molta tranquillità che io rigetto personalmente, alla luce di altre fonti che ora vi citerò, tutte e tre queste tesi. Giuseppe non aveva affatto 60 anni quando ha sposato Maria, anzi ne aveva la metà circa, una trentina, Maria ne aveva 14, 12, 14. Giuseppe non aveva matrimoni precedenti perché Dio lo aveva preparato unicamente a questo matrimonio perché fosse tutto casto anche lui e soprattutto non aveva figlie. Il tema per quanto accolto perciò nell'iconografia è da rigettare. Serviva questa idea di un San Giuseppe anziano con la barba bianca, serviva per garantire la verginità di Maria, che però era custodita dal fatto che, come vedremo più avanti, in realtà entrambi i giovani sposi Giuseppe e Maria erano stati raggiunti, questo dobbiamo dire, da una luce speciale di Dio, da una luce sopranaturale e pertanto entrambi inizialmente in modo separato e poi confrontandosi reciprocamente avevano maturato il proposito della castità. Non era davvero necessario che Maria, ecco quello che io penso, appena 15enne andasse sposa, 15enne però già diciamo è un'età più alta perché poteva avere forse anche 12 anni, 13 anni, andasse sposa a un sessantenne. Al massimo quando prende in sposa la giovanissima Maria, Giuseppe avrà avuto non più di 30 anni come era usanza appunto nella tradizione semitica, cioè i maschi ebrei si sposavano a quell'età lì intorno ai 30 anni e le donne invece intorno ai 12-14 anni. Adesso l'altro tema, questa è stata l'ampia introduzione, secondo punto, protos un ergos Giuseppe, cioè primo collaboratore dell'opera redentrice. Il travaglio di San Giuseppe, come ora vedremo di fronte alla propria santa moglie che scorge incinta, resta un mistero che i Vangeli non approfondiscono, soprattutto Matteo. Lo stupore, lo smarrimento, la sorpresa di Giuseppe di fronte a Maria che si mostra a un certo punto incinta davanti a Giuseppe, io ho pensato, non so se siete d'accordo, non devono essere stati diversi da quelli di Mosè dinanzi al roveto ardente o da quelli del sommo sacerdote che una volta l'anno doveva entrare nel Santa Santorum per offrire il sacrificio dinanzi all'arca dell'Aleanza nel giorno dell'espiazione. Questo io penso. Penso che San Giuseppe, di fronte a Maria che rimane incinta e che lui scorge incinta, non ha potuto sospettare. Io ho pensato che lui ha potuto sentirsi come si sentiva Mosè quando, toltisi i sandali, si prostra dinanzi al roveto ardente. Ora qui c'è più che il roveto ardente, c'è il Messia nel grembo della promessa sposa. Forse lui si sarà sentito molto più che il sommo sacerdote che doveva fare l'ingresso nel Santa Santorum. Ora qui c'è più che l'arca dell'Alleanza con le tavole della legge. Qui c'è il Messia, qui c'è il Messia e forse siamo corsi via da questo momento in modo un po' frettoloso per recuperare la grandezza del primo collaboratore di Dio, protos un ergos. Sarebbe bello che questa espressione circolasse come quella di Santo Stefano, protomartire e qui protocollaboratore, protos un ergos. Dobbiamo sostare, figlioli cari, e chiediamolo in preghiera. Fatelo anche quando terminerà questa catechesi prima di andare a letto. Dinanzi al momento in cui Giuseppe riceve da Maria la notizia che è incinta per opera dello Spirito Santo. Quando una sposa comunica al proprio uomo che è in attesa di un figlio, la replica dell'uomo è generalmente pressoché imbarazzata, stupita, impacciata. L'uomo, soprattutto nel primo annuncio di gravidanza della propria amata, se c'è veramente amore, si stupisce, ha contribuito a quello e tuttavia sa che è un affare che dovrà gestire del tutto la donna in modo speciale. Ecco, di fronte all'annuncio di una gravidanza, sempre il giovane marito, quando è la prima volta, sperimenta un sentimento confuso di gioia, di imbarazzo. Insomma, è veramente un momento particolare. L'uomo resterà sempre, il maschio per intenderci, resterà sempre sulla soglia del mistero che la donna quando è incinta vive dentro di sé. Infatti non c'è una speculazione sulla gravidanza perché l'uomo non è in grado di comprendere e la donna non ha bisogno di fare speculazione, la vive e basta. Qui però, di fronte a questa gravidanza che gli viene annunciata, Giuseppe, rispetto a tutti gli altri papà, non ha preso parte alcuna. Lui era già in accordo con Maria di dover vivere questo cammino di castità, di castità completa. Dio padre aveva ispirato a Maria nel tempio di essere tutta vergine e Dio padre attraverso Maria ha confermato Giuseppe in questo suo presentimento di dover essere casto. Ora però si trova Maria incinta dinanzi a sé e in fondo è proprio intorno a questa sorpresa di Dio. Immaginate voi, cari figlioli, immaginate voi, è proprio di fronte a questa sorpresa di Dio, inaspettata, impensabile, che deve fermarsi l'attenzione quando parliamo dell'umile, straordinario, falegname di Galilea. Mi viene in mente come nell'opera di Maria Valtorta si legge che per Maria, per dare notizia della gravidanza allo sposo, si mette a lungo in preghiera. Maria lascia che sia Dio a scegliere il momento propizio per dirlo a San Giuseppe. È una scena narrativa che se andate a leggerla io trovo delizioso. Allora io credo che così possiamo chiamare San Giuseppe. Primo collaboratore, protosi un ergos di Dio nel piano della redenzione. Pensateci bene, pensiamoci bene, cari figlioli. San Giuseppe detiene questo primato all'interno dei Vangeli. Noi sappiamo che Dio offre a tutti il dono della salvezza, Dio vuole che tutti siano salvi, ma alcuni li chiama in modo particolare ad essere collaboratori di questo dono, di questo disegno. È qualcosa di commovente. Alcuni uomini sono al contempo destinatari, però anche collaboratori del disegno di salvezza che Dio attua per tutti. Nel panorama del Nuovo Testamento Giuseppe è il primo a collaborare. Un primato però, se notate, che egli con eleganza detiene in maniera discreta, tanto che difficilmente ci si accorge. Ancora in Maria Valtorta Gesù definisce San Giuseppe il mio padre vergineo. Che splendido simolo. Padre però vergineo. Esso racchiude il segreto di quest'uomo, umile e discreto, che ha avuto un ruolo così decisivo e che ha accettato prontamente, su indicazione di Maria, la via della castità. Dunque San Giuseppe rimane come, diciamo, in ombra. Eppure il primo. Giuseppe è, agli albori della redenzione, ciò che gli apostoli saranno dopo la Pentecoste. Collaboratore. Prima ancora che arrivino Giovanni il Battista, San Pietro, San Paolo e gli apostoli. Giuseppe ha già compiuto la sua missione. Non lo prima volta. Gli occhi del pescatore di Galilea Pietro incroceranno lo sguardo di un Gesù ormai adulto lungo le rive del lago di Galilea. San Giuseppe sarà stato già da lungo tempo fruitore della sua bellezza insuperabile. E quando ancora le mani di ciascuno degli apostoli stringeranno quelle del Signore, già da molto quelle mani saranno state carezzate e baciate dal sempre devoto Giuseppe. Egli è là dove nessuno, neppure Pietro e Giovanni, è potuto aggiungere in un'intimità con Gesù del tutto singolare ed esclusiva come l'arte lo raffigura. Bene, è per questo che non dobbiamo pensare allora, però, e questo è il terzo punto della mia catechesi di stasera su San Giuseppe dal mio libro Si fece carne, non dobbiamo pensare che San Giuseppe sia giunto all'annuncio della gravidanza di Maria con una sorta di impreparazione come il modernismo vorrebbe, quasi come se egli era un impreparato a quello che Maria era. È un errore pensarlo. Egli, Giuseppe, doveva essere preparato a comparire dinanzi al nuovo Sinai di Dio, cioè Maria. E come scrive ancora von Balthasar, Giuseppe sembra lasciato da parte come uno strumento inutile già superato. E questo è veramente commovente. È decisivo, è necessario, Dio lo sceglie come protocollaboratore, come protosionergos, eppure tutto lascia intendere che con Giuseppe siamo in presenza di uno strumento inutile. Alcuni mistici sono stati portati a sondare, figlioli cari, le prove che hanno preparato San Giuseppe a questa altissima missione sempre, e voi lo sapete ormai, è una missione accompagnata e preceduta dalla croce. Più alta è la missione, più Dio purifica il destinatario della missione, con prove enormi. Ecco, Sor Maria Cecilia Bai, una sora mistica, ha raccontato in modo sopranaturale la vita di San Giuseppe, sottolineando le tante prove che ha dovuto affrontare dalle vessazioni sataniche. Se già Padre Pio, altri grandi santi hanno conosciuto una violenta vessazione continua di Satana, quanto più San Giuseppe, lo sposo di Maria, il padre putativo di Gesù così decisivo. E Sor Maria Cecilia Bai sottolinea che egli ha dovuto conoscere le vessazioni di Satana che gli metteva contro i suoi vicini, i familiari, perché fosse preparato in modo degno alla missione che lo attendeva, forgiato, forgiato dalla prova. Soprattutto, e questo lo si dimentica facilmente. San Giuseppe è il primo uomo tratto dal popolo eletto che dovrà vivere un'esistenza per Dio nella castità completa. Oggi questo è difficilmente accettato, è vergognoso sentire qua e là in giro personalità della Chiesa che mettono in dubbio la castità di un Giuseppe che invece cerca le personali soddisfazioni. È un dato rivelato. San Giuseppe, appunto, è lo sposo di Maria chiamato a vivere la santità accanto a Maria. Guardate, vi cito questo testo liturgico greco del V secolo che trovo molto bello. I greci sono sempre insuperabili. Dice così questo testo liturgico. Spiegaci, Giuseppe, come mai la fanciulla ricevuta dal santo dei santi la porti incinta verso Betlemme? Io, risponde, dopo aver scrutato i profeti e avvertito da un angelo sono convinto che è Dio, che è colui che Maria deve mettere al mondo in modo inenarrabile. E questa è la vera grandezza di San Giuseppe, quello di essere collaboratore di Dio e perciò primo collaboratore di Dio e perciò in quanto uomo castissimo sottoposto a continui insidie da parte del demonio. E infine San Giuseppe ha avuto certamente, come ora vedremo, il proprio Gezzemani. Egli ha potuto anticipare la passione di Pietro. Si può legittimamente parlare non solo di un apassio Petri, come ho fatto nel mio libro, se vi ricordate, li amò sino alla fine, ma anche di un apassio Iosef. Egli vuole scomparire, non perché, come la stiamo per dire in modo più chiaro, dubiti, ma perché non si ritiene all'altezza. E finalmente andiamo al testo decisivo e siamo al quarto punto. Ma San Giuseppe perché vuole ripudiare in segreto Maria? Che cosa significa ripudiare in segreto? Che senso ha farlo in segreto? E soprattutto perché lo vuole fare? Al centro dell'interesse dell'evangelista Matteo c'è il tema del concepimento virginale di Gesù, ma l'impiego di Giuseppe risulta decisivo. Il brano, come sappiamo, è denso di rilievi significativi. E se noi lo leggiamo dal testo classico ci accorgiamo che Matteo sottolinea alcuni dettagli importanti che subito vogliamo mettere in luce per chiarire una volta per tutte che la tesi del dubbio è da scartare assolutamente. Leggiamo Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. E subito i padri della Chiesa che scartano la tesi del dubbio, quindi non è che me la invento io, questo lo dico per un paio di approssimativi detrattori, è una tesi patristica che dunque, anche se non la si condivide, comunque siccome la affrontano diversi padri della Chiesa, banalizzarla significa essere dei cafoni. Infatti c'è gente che vuol fare teologia sui social e risulta assolutamente incompetente anche nel linguaggio, anche nel linguaggio naturalmente, perché uno può non condividere una tesi, ma non può permettersi di denigrarla se viene dai padri della Chiesa. San Girona subito si domanda che senso avrebbe avuto per Matteo chiamarlo giusto se poi decide di ripudiare in segreto, se è giusto deve applicare la legge perché questa è giustizia alla lettera, Giuseppe quindi non può licenziarla in segreto, deve accusarla pubblicamente. Dunque Giuseppe suo sposo, il versetto 19, poiché era uomo giusto, viene sottolineato questo e giustamente San Girolamo dice che Matteo lo fa apposta per far capire che non è volontà di tradire la legge, ma perché Giuseppe intravede altro e non voleva accusarla pubblicamente, penso di ripudiarla in segreto. Fra un momento vedremo finalmente dal mio libro che cosa significhi dal testo greco questo in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse, Giuseppe figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Dunque qui Giuseppe non viene, non viene accreditato circa un possibile dubbio, non gli viene detto non pensare di ripudiare Maria perché è peccatrice, eccetera. Gli viene detto non temere di prendere con te Maria tua sposa, cioè non avere paura di questa missione. Io ti confermo, dice l'angelo in sogno, che quello che lei porta in grembo viene da Dio, dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e lo chiamerai Gesù e gli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Allora il brano, vi dicevo, è denso di rilievi significativi. Anzitutto Maria è promessa sposa. Attenzione perché questo è molto importante il tema della promessa sposa, cioè non c'è il verbo greco classico per indicare le nozze che è gamein, che letteralmente significa appunto sposare, da cui il termine classico di gamos, cioè appunto matrimonio. Il verbo adoperato invece è del tutto singolare in greco, è mnestewein, che significa letteralmente aspirare al matrimonio. Dunque Matteo ci tiene a sottolineare quando Maria rimane incinta, a scanso di equivoci, non stanno ancora insieme i due promessi sposi. Come suggerisce l'esegeta Raymond Brown, che sempre io cito nei miei testi di questa trilogia, Matteo e Luca devono avere faticato non poco con ogni evidenza per riuscire a descrivere bene la condizione misteriosa di Maria e di Giuseppe quando Dio entra in modo così imprevisto nelle loro esistenze. Erano già sposati? Avevano quindi avuto possibilità di consumare il matrimonio? Oppure erano promessi sposi in attesa della convivenza? Il verbo greco mnestewein, adoperato da Matteo, non lascia dubbi, cioè non erano ancora andati a vivere insieme e ciò spiega ulteriormente l'impatto drammatico della gravidanza, perché Giuseppe se la ritrova incinta senza che abiti con lei. Come comprova lo studio sulle abitudini sociali del tempo di Cristo, il matrimonio ebraico aveva due fasi. Il consenso erusin in fidanzamento in ebraico e il trasferimento nisuid. Tra le due fasi intercorreva un intervallo di tempo, generalmente non più di un anno, nel quale la sposa non doveva incontrare alcun uomo che non fosse il padre o un fratello. Il consenso avveniva intorno ai 12 anni, quando la fidanzata era considerata già disponibile, in ragione del flusso mestruale, per la maternità. A partire dal consenso, il fidanzato aveva pieni poteri sulla ragazza, che tuttavia continuava per qualche tempo a vivere nella propria casa. Maria viene descritta proprio in questa fase qui, così delicata e pericolosa, nello stesso tempo. Matteo sottolinea che Maria si trova incinta per opera dello Spirito Santo, prima che andassero a vivere insieme. Chiunque in questo brano può, sembra evidentemente qualcosa di scandaloso, cioè si possono intravedere effettivamente gli indizi di un clamoroso tradimento. Il verbo greco, vivere insieme, siuner che stai, indica proprio il creare una famiglia, ma indica anche il senso dell'intimità sessuale, nel rapporto sessuale quello in cui per la prima volta il marito faceva propria la moglie. Prima che Giuseppe possa pensare, caso mai, a tutto questo, Maria si trova incinta per opera di qualcun altro. E Giuseppe deve prenderne drammaticamente atto. La Torah, la legge, esponeva in questo caso, come sapete, l'adultera, così diceva il libro del Levitico, alla lapidazione. Così entra in scena il dramma di San Giuseppe. Ma la questione è, può egli avere veramente sospettato di Maria? La conosce bene, ne ha respirato la santità di vita, la purezza, l'innocenza angelica, quegli occhi di Maria, quello sguardo della Vergine. Ma scherziamo? Giuseppe la frequenta e, come ho detto a Messa oggi e nelle altre catechesi su San Giuseppe di questi giorni, Giuseppe viene come divinizzato, Giuseppe viene come trasformato, trasfigurato dal contatto con Maria. Lui cerca questo contatto con Maria di tipo spirituale, non più fisico. Giuseppe è stato del tutto trasformato dal contatto con Maria, da questa innocenza angelica e proprio immacolata. Cosa dunque anima ora il cuore di quest'uomo catapultato d'improvviso in un mondo che non si aspetta? Matteo sottolinea che Giuseppe è uomo giusto, ma ora che la promessa sposa è incinta, che cosa deve fare? Matteo aggiunge il versetto 19 che non voleva accusarla pubblicamente. Proviamo, se ce la facciamo, entrare in un momento nel dettaglio del travaglio di San Giuseppe che non è dubbioso sulla santità di Maria, ma deve, come Dio tante volte permette agli uomini che mette alla prova, deve trovare nella preghiera, nella sua fede, il modo di gestire questa vicenda così misteriosa. Si hanno grosso modo tre direttrici circa la possibilità che Giuseppe, diciamo, licenziasse in segreto Maria. Il tema della pietà, cioè Giuseppe prova compassione per Maria che si è ridotta in quel modo. Il tema del rispetto sacro, cioè Giuseppe vede entrare Dio nella vita di Maria e come ogni buon ebreo si fa da parte, ed è questo che noi pensiamo, il tema dell'obbedienza, cioè Giuseppe deve applicare in maniera infesibile la legge. Qual è la verità su tutto questo? Giuseppe può mai avere dubitato di Maria? Può anche un solo istante aver perduto fiducia in lei? Sarà stato forse sfiorato Giuseppe dall'idea di una Maria diversa da quella che lui conosceva? No, Fiori cari, per quel che mi riguarda io non credo a questa ipotesi. Gli esegeti ritengono che questa è l'unica interpretazione praticabile, eppure la via del rispetto sacro, dell'umiltà, è già intravista nientemeno che dal padre della chiesa origene, quindi ai miei detrattori che dicono che io le cose me le invento e sono incompetente, dico che sono loro superficiali, banali e incapaci di fare teologia, evitino di farlo. Già origene, padre della chiesa a cavallo tra secondo e terzo secolo, parlava del tema del rispetto sacro verso Maria, cioè Giuseppe vuole allontanarsi perché non si sente all'altezza di ciò a cui sta assistendo, che Maria cioè è visitata da Dio in modo del tutto speciale. Decidere di liquidare questa opzione come opzione marginale produce un paio di difficoltà, come ora vi dirò, di approccio al mistero stesso dell'incarnazione del verbo. Per essere chiari, Giuseppe, di fronte all'annuncio che Maria è incinta, ha solo due possibilità da mettere in pratica. Quali sono? La prima, o il processo pubblico per adulterio, cioè convocare gli abitanti di Nazareth e dire loro questa che doveva essere mia moglie, doveva essere mia, è incinta per opera di qualcun altro e dopo un processo generalmente molto sommario veniva essere lapidata. Oppure un procedimento più semplice, più riservato, che consisteva appunto nella consegna di un libretto di ripudio. Quest'ultima opzione non prevedeva un processo, ma soltanto la presenza di due o tre testimoni. Matteo non precisa qual è delle due possibilità. Dice solamente che pensò Giuseppe di ripudiarla in segreto. pensò di ripudiarla in segreto. Sì, abbiamo sicuramente dei infiltrati che parlano di tachipirina e di influenza mentre trattiamo di questi commenti. È fatto apposta, non ho dubbi. Se non è fatto apposta è ancora peggio la totale superficialità. Pensò di ripudiarla in segreto. Ma che significa in segreto? Il termine greco latra, si dice in greco latra, significa letteralmente contatto, in maniera nascosta. Cioè Giuseppe vuole non avere un comportamento duro nei confronti di Maria. Giuseppe intende assumere uno stile per gestire il suo allontanamento da Maria che non la esponga all'Udibrio. René Laurentin dal canto suo ritiene che il sospetto di Giuseppe nei confronti di Maria sia del tutto forviante. Questo appunto ancora una volta lo getto in faccia ad alcuni detrattori un po' cafoni nel linguaggio ai quali dico che niente meno persino René Laurentin afferma proprio quello. Cioè che la tesi del sospetto da parte di Giuseppe è estranea al testo evangelico, all'intenzione dell'evangelista stesso, il quale avrebbe dovuto casomai dire che Giuseppe doveva licenziarla pubblicamente e non in segreto, almeno con tre testimoni. Opta quindi per un licenziamento, il testo greco letteralmente dice fatto con tatto, con eleganza potremmo anche dire, e perché è pervenuto alla certezza che qui c'è il dito di Dio, quindi vuole salvare il salvabile. Da una parte accomiatare Maria, accomiatarsi da Maria, dare il congedo a Maria perché Dio possa disporre di lei, dall'altra farlo in modo tale da non trasgredire la legge e quindi con un libello segreto. Qui sta la giustizia di Matteo. Il sogno che gli fa nella trama narrativa seguente serve ad accreditare questo esito interiore. A Giuseppe viene detto in sogno che questo bambino viene dallo Spirito Santo e così lui deve capire qual è il suo compito. Il suo compito, l'alto compito teologico è quello di prendersi cura di Maria e del futuro Messia. E qui giochiamo l'ultima carta, giochiamo la carta quella del matrimonio tra Giuseppe e Maria. Che tipo di matrimonio è stato quello tra Giuseppe e Maria? Ecco, io dico questo. Innanzitutto la beata Caterina Emmerich afferma che Giuseppe aveva pensato di andarsene a Gerusalemme per servire Dio nel Tempio, anche se lui non era della classe sacerdotale di Levi, ma di quella di Davide e intendendo condurre lì una vita di penitenza e di sofferenza. Una corrente mistica, approdata niente meno che a San Bernardo di Caravelle, ha parlato nel frattempo di un voto di castità concordato anticipatamente al momento in cui Maria si trova incinta, segretamente tra i due santi coniugi. Secondo molti santi e anche molti teologi del passato, Giuseppe e Maria avevano fatto voto di castità. Io ho conosciuto delle coppie di sposi che vivono la castità. Come pensare che non sia stato prima di tutto Giuseppe e soprattutto Maria a ispirare a Giuseppe di vivere questa castità. Era Dio che lo voleva. E' stata soprattutto Maria che ha condotto lentamente un non certo riottoso Giuseppe verso questa direzione. Giuseppe non si è opposto, era troppo disponibile. Dio l'ha scelto apposta perché era l'immigliore che potesse stare accanto a Maria. Non ha dovuto far fatica Maria ad aprirgli l'orizzonte, il varco della castità, della verginità per il regno dei cieli. L'adagio proverbiale similis cum similibus qui si adatta alla perfezione. I simili stanno con quelli che sono simili a loro. La santità e la purezza di Maria così immacolata hanno potuto sfondare una porta aperta. Giuseppe è un uomo altrettanto puro, capace di comprendere il registro angelico e spirituale della sua promessa sposa. Noi abbiamo detto quindi Padre della Chiesa, Origene, Girolamo e altri. Abbiamo citato René Laurentin, Raymond Brown. Come se non bastasse, se può essere sufficiente aggiungiamo anche Don Dolindo Ruotolo, il quale non voleva sentir parlare della teoria del dubbio. Si sentiva, come dire, prendeva fuoco Don Dolindo Ruotolo. Diceva che era una mancanza di rispetto nei confronti sia della santità di Maria che anche nei confronti della santità di San Giuseppe, ritenere che Giuseppe avesse potuto dubitare di Maria. Guardate cosa scrive Don Dolindo Ruotolo. San Giuseppe aveva certamente fatto, ispirato da Dio, il voto di verginità. Così io ritengo che certamente San Giuseppe aveva predisposto il cuore alla possibilità inaudita di una vita casta che non era prevista nella cultura ebraica, ma Dio può sempre ispirare i nuovi percorsi. Sempre la donna è decisiva però per questo. Sa e può condurre l'uomo alla perversione più impensabile, sul piano proprio sessuale, oppure elevarlo, proprio anche mediante la stessa dimensione affettiva e sessuale, alle sfere più alte dello spirito. E anche quando non c'è questa sfera, però c'è quella affettiva, si può arrivare a questi vertici. Basterebbe ricordare cos'è stata Chiara per San Francesco o Beatrice per Dante, ma qui di più cos'è stata Maria per San Giuseppe. Non si può stare vicini al fuoco, alla sorgente di calore, senza ricevere quel calore. Giuseppe vive accanto all'Immacolata. Giuseppe vive accanto a Maria. Non può non avere ricevuto quell'influsso che tutti noi riceviamo dalla Madonna, lui per primo. Lui è stato introdotto nel mistero della castità immacolata di Maria e ne ha subito tutta la bellezza. E questa ridondanza della purezza e della santità di Maria è ridondata nell'anima di Giuseppe. Un solo esempio, io vi cito, quando Giuseppe dovrà lasciare Maria in casa di Elisabetta per tre mesi, tornandosene a Nazareth, piange San Giuseppe secondo i mistici, perché sente che gli manca la dolce e suave voce della promessa sposa che lo conduce alla contemplazione della grandezza e della santità di Dio. San Giuseppe, qui veramente anche io mi commuovo, era del tutto, pendeva del tutto dalle labbra di Maria. San Giuseppe è stato realmente, come qualcuno scrive, il primo devoto di Maria. Quei tre mesi che Maria trascorra in careme da Elisabetta, che Giuseppe vive senza di lei, sono stati per lui come i quarant'anni degli ebrei nel deserto. Di fatto, dopo quell'episodio lì, Giuseppe non vorrà e non dovrà più stare senza Maria fino alla propria morte. E dunque il matrimonio, ed è l'ultimo punto, il matrimonio di Giuseppe e Maria non è fitizio o simbolico come alcune correnti poi sovente approdate all'eresia hanno sostenuto. San Tommaso d'Aquino scriverà, questo è molto importante per tutte le coppie di sposi, che l'unione carnale, l'unione sessuale ha di vista l'unione dei cuori e delle anime. Così l'unione sessuale, che è qualcosa di splendido e di straordinario che Dio ha creato nella coppia, è però una causa strumentale, non essenziale, che admira l'unione dei cuori. Giuseppe può solo ricavare santità dal contatto con Maria. La teologia ha coniato l'espressione di matrimonio di San Giuseppe, ma dunque erano veramente sposi? Sì, essi erano veramente sposi. Il fine ultimo del matrimonio, infatti, non è l'unione sessuale dei coniugi, ma l'unione spirituale. E la prima, quella sessuale, è orientata verso la seconda, quella spirituale. Dice Sant'Omaso d'Aquino, l'essenza del matrimonio consiste nella indivisibile unione degli animi. L'esperienza pastorale da parroco di frontiera per diversi anni mi ha confermato in questa direzione qui. Ho conosciuto alcune coppie di sposi con un'intensa vita sessuale, ma con una pressoché totale assenza di complicità, di amicizia, di sostegno reciproco e meno che meno di comunione spirituale nella fede e nella preghiera. Una donna, una parrocchiana, che doveva darsi frequentemente al marito, poi doveva anche pregare il rosario di nascosto. Un marito appassionato la notte che poi restava del tutto taciturno in casa durante il giorno. Abbiamo quindi chiaro che San Giuseppe ha amato Maria, sì ha amato Maria, ma l'ha amata in Dio. E Maria ha amato Giuseppe, ma l'ha amato in Dio. E così fra i due coniugi che sono modello di tutti gli sposi cristiani c'è stato realmente un matrimonio intenso. Ora, certo, uno dei fini del matrimonio è la generazione dei figli, ma nel caso di Maria il concepimento avviene in modo virginale e allora San Tommaso d'Aquino dice che la prole, cioè i figli, non è detta bene del matrimonio solo in quanto è generata per mezzo di esso, ma in quanto nel matrimonio viene accolta ed educata. Giuseppe non genera carnalmente Gesù, eppure gli è padre e lo ama come figlio sotto ogni altro aspetto, è più di quello puramente carnale. E ciò che accade nel caso dei figli adottivi, un padre adottivo può riuscire ad amare più di un padre carnale. Occorrono un paio di secondi per diventare padre secondo la carne, occorre un'intera vita per esserlo sotto tutti gli altri aspetti. Il matrimonio tra Giuseppe e Maria è stato un matrimonio vero, non fitizio. Nella liturgia antica il 23 gennaio era dedicato allo sposalizio di Giuseppe e Maria. La riforma si è perduta ogni traccia, forse perché è ritenuto tema imbarazzante per la sensibilità moderna. In ogni caso, ancora San Tommaso d'Aquino afferma che Maria, come dicevamo poco prima, ha coinvolto il proprio coniuge nel voto di verginità. Questo lo dice nella Somma Teologie parsterzia, questi 28 articolo 4. Quindi come sarebbe pensibile pensare che Giuseppe viene introdotto da Maria nel regno di Dio, nel regno della castità e della verginità e poi lui debba dubitare che Maria invece se ne è andata con un altro. Assolutamente offende l'agire di Dio che ancora sostiene la tesi del dubbio. E io concludo così con due ultime considerazioni. Come devono essere stati intensi e divini i momenti vissuti tra i due coniugi nell'umile dimora di Nazareth. La donna è fatta per essere il sostegno dell'uomo, la moglie muore sempre, generalmente dopo il marito, c'è uno scarto di circa cinque anni. Naturalmente ci sono eccezioni frequenti, ma generalmente l'uomo sempre muore prima della moglie, è previsto da Dio. Perché? Perché la donna lo deve tenere per mano da quando si innamora di lui, lo conosce, lo guarderà sempre come se fosse un eterno bambino, lo accompagna nella vita, nelle fatiche che deve affrontare e lo consegna a Dio in punto di morte e poi dopo col tempo muore anche lei. Ma ecco, questo è accaduto soprattutto a Maria nei confronti di Giuseppe. Solo un cuore che ha in stima la purezza può provare a sondare questa intimità tutta virginale e casta tra i due santi sposi dentro il cui clima orante soprannaturale si è realizzato il mistero dell'incarnazione. Gli sposi dovrebbero prendere spunto da questa unione tra Giuseppe e Maria. Non vale un'intesa carnale perfetta se poi non c'è un'intesa spirituale. Io vi dirò di più, so quel che sto dicendo, mi assumo la responsabilità di ciò che dico, ma una coppia che non ha alcune complicità spirituali, che non ha alcuna complicità spirituale, è una coppia che non ha raggiunto l'obiettivo, anche quando le prestazioni sessuali sono straordinarie. Ma se non c'è l'intesa spirituale, di questo quante donne soffrono? Quante donne che sono più sensibili, come dice Pavel e Dokimov, al regno dello spirito, soffrono di avere mariti carnali, mariti che cercano solo la sfera terrena e che però non vogliono aprirsi alla dimensione dello spirito? E quanto è bello invece quando una donna trova accanto un uomo che prega e che asseconda gli impulsi dello spirito? È raro però succede e lì c'è quasi in qualche modo una sorta di riflesso della grandezza di questa coppia. Il mio libro, qui si conclude il capitolo secondo su San Giuseppo, ho saltato molte cose, le potrete approfondire se volete il mio libro, lo potete chiedere alla segreteria di Radio Domina, c'è tutto il resto. Il mio libro, si è fatto carne, si conclude con un tributo a San Giuseppe e vorrei leggervelo per concludere perché si trova proprio nell'ultima pagina, però io volevo appunto commentarlo con voi, solamente leggervelo rapidamente per dare questo tributo al glorioso Patriarca San Giuseppe. Concludo così, Gesù che lavora, sorride, studia le scritture, prega da solo a lungo e poi insieme alla madre a San Giuseppe, sì, San Giuseppe. Il cuore mi impone di chiudere con San Giuseppe, il libro ovviamente, il giusto che obbedisce in tutto a Dio e che sembra quasi sempre di troppo tra Gesù e Maria. San Giuseppe, che capolavoro di santità, il suo amore per Gesù fa commuovere. Come incanta il cuore di questo padre che non è padre, di questo sposo che non è poi veramente lui lo sposo, insomma di questo animo gentile e nobile che si perde in Gesù e Maria accettando un ruolo tanto decisivo eppure così relativo ad altro. San Giuseppe si perdeva in Dio mediante il suo Gesù, lo guardava, lo accudiva, lo venerava. I suoi candidi occhi castani si riempivano sempre di lacrime nel vederlo perché l'amore muove sempre il cuore e le viscere. Tutto l'amore dei santi ardente mistico per Gesù è solo un accenno dell'ardente amore di Giuseppe per Gesù. Il solo vederlo gli accendeva nel cuore fiamme ardenti di amore. Egli viveva per Gesù, lo vedeva crescere neonato, bambino, adolescente, giovane di venti e poi di venticinque anni. Questo Gesù piccolo che Giuseppe accudiva se lo vede crescere virile, vigoroso, bello Gesù, il suo Gesù e sempre di più si legava a lui. Non si è mai stancato, non si è mai lamentato sempre del tutto a servizio di Gesù e di Maria, non ha mai cercato nulla per se stesso. Che rapporto, soprattutto quello tra Giuseppe e Gesù. Quando era piccolo e neonato lo teneva tra le sue vigorosa braccia, sempre commosso, riempiendolo di baci sul volto, coprendolo di affetto e di amore incontenibile. Quando Gesù era ancora fanciullo lo seguiva sempre con gli occhi e quando doveva andare alla bottega a lavorare contava Giuseppe le ore e persino i minuti per rivederlo. E quando Gesù gli andava incontro con le sue braccine allargate, San Giuseppe sentiva che il cuore gli prendeva fuoco come il roveto del Sinai. Quali casti baci e quali candidi abbracci egli ha potuto godere nella vita nascosta di Nazareth. In effetti in quegli anni realmente Gesù era tutto e solo suo, oltre che della madre, che però si esercitava lentamente e dolorosamente al distacco. E poi i lunghi dialoghi tra un maturo e sempre più anziano Giuseppe con i primi capelli bianchi, ma gli occhi sempre ardenti, e il ventenne Gesù. Dialoghi lunghi, prolungati, spesso notturni, perché se con l'Apostolo Giovanni volentieri Gesù si intratteneva a parlare, con il suo Giuseppe Gesù non ha avuto mai fretta. L'ormai anziano falegname non avrebbe mai smesso di ascoltarlo. Se quando era bimbo gli sistemava le coperte, si assicurava che dormisse bene, ora, divenuto giovane, attendeva ugualmente che andasse a letto per continuare a vegliare su di lui. Non gli riusciva a disganciarsi da questo ruolo di custode di Gesù. Era il suo Gesù e lo rimarrà fino alla morte. Giuseppe non avrebbe potuto resistere, oltre, quando cioè questo suo Gesù sarebbe divenuto anche di altri, anche di tutti, e meno che meno quando si sarebbe consegnato per la morte. Doveva rimanere il suo Gesù, protetto e custodito dal suo amore paterno e sicuro. Forse qui, proprio in questo, Giuseppe avrebbe corso il rischio di mettere le mani avanti agli apostoli, al battista, alle folle, alle discepole, alla maddalena, ai discepoli, dicendo Gesù è mio, non posso darvelo. E così è invecchiato di improvviso. Doveva accadere che egli, quanto più Gesù era ormai pronto alla missione, tanto più invecchiasse. Le mistiche dicono unanimi che una lunga malattia lo ha afflitto costringendolo a letto e che è morto circondato dall'amore. Gesù era suo e Giuseppe doveva andare nel regno eterno così, come un bambino cui si concede un gioco che lo fa felice. Sapere che quel Gesù, ora così bello e adulto, pronto ad essere di tutti, rimaneva suo e nessuno glielo avrebbe potuto mai più toccare. Ecco, questo rendeva il sempre più moribondo Giuseppe felice e soddisfatto. E poi c'era il calvario sullo sfondo, la croce, come si diceva. Maria, la madre, era la corredentrice, così avrebbe retto l'urto. Giuseppe no. Lui semplicemente, e in questo semplicemente c'è tutto il suo mistero, era un padre innamorato di un figlio che gli era stato consegnato da Dio stesso. Non avrebbe retto, vedendolo morire in croce. Sarebbe morto lui, il cuore gli si sarebbe fermato. E Giuseppe, l'uomo giusto, muore così, guardando ora a lungo, come spesso fanno i moribondi con i propri cari, il suo Gesù, fissandolo con lo stesso sguardo della notte di Betlemme e pronunciando a fil di voce, quasi ignaro della morte, le parole che lo avevano sostenuto tutta la vita, Gesù mio, e muore così, Gesù mio, Gesù mio, e muore così contento come un bambino, lui, il patriarca del Nuovo Testamento, il nuovo Abramo, perché questo è il vero segreto dei Santi, giungere alla morte dopo missioni straordinarie, avendo conservato il cuore di un bambino. Quando, piangendo, Gesù reclina un'ultima volta la mano rugosa e robusta del suo amato Padre Terreno e lo consegna alla morte, per Gesù è venuto il momento di capire che deve darsi ora più che mai interamente al vero Padre che gli suggerisce di andare per portare il Vangelo agli uomini. Tutto questo, se volete, lo trovate in questo mio libro e mi scuso con voi se questa sera ho veramente esagerato nella commozione. Vi aspetto giovedì, se volete, per il capitolo successivo, che non vi anticipo qual è, invoco su tutti voi la Santa Benedizione del Signore. In nomine Patris e Fili e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.